Buongiorno amici, sono qui davanti alla telecamera mobile come era da tanto tempo che non ci si vedeva. Sto facendo delle riflessioni, come voi sapete io sono un grande riflettore. Allora, mi sto chiedendo, Gesù nasce a Natale e tutti si mangia e si beve? Gesù muore e risuscita a Pasqua e tutti si mangia e si beve? Ma ci pensate se si sposava e che succedeva? Tac e auguri di Buona Pasqua di nuovo! Ciao amici, alla prossima! Tac e canta la pizza!